In conclusione, nutro la speranza che l'Unione per il Mediterraneo possa diventare un cerchio più largo dell'Unione Europea e se l'Unione Europea saprà veramente corrispondere all'obiettivo che si è data di costruire un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa col Mediterraneo meridionale, allora la nostra Regione cesserà di essere teatro di antiche conflittualità e troverà in se stessa la forza per crescere civilmente ed economicamente in particolar modo grazie alle energie delle sue generazioni più giovani.